Ho vinto quattro round, ho fatto pure un perfetto, non mi sono mai istraiato però, questa cosa che schiva tutto... Comunque puoi fare molto meglio. Ho preso un po' le misure, poi qualcosina cominciai a fare, però alcune cose mi ha mangiato veramente, schivando mi ha mangiato come tutto. Bravo, vettato, non provate. Questo è un certo, me l'ha cominciato a fare, manetta, gli ho fatto UF1, gli ho mangiato l'alto e poi gli ho rifatto, gli ho fatto avanti 4, blow counter, e poi mi sono mangiato l'alto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bravo. Grazie a tutti. 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 Ma chi? Stavo sulle carcate? Lì? No, no, stavo sulle carcate Ma perché? Che diceva? Diceva che mi diceva Io gli faccio 4, 4, 4, 5 Il matri è stato bellissimo Lui una volta che assimila il tempo dell'elettrico del giocatore Lui fa parte di un'esercizio La chitarrazzo dopo il punto Lui dice che assimila il tempo dell'elettrico No, no, sapete cosa vuol dire? Non direi che capisce Però un altro se lo cambia un po' No, diciamo che lo può fare dietro Ultimately, ho dovuto giocare a Giordano Sì State all'attesa? Sì Mi chiamo Sandro e anche stavolta non è venuto. No, basta, è finito. Come fa Boraccio? A me mi dispiace molto. Tu fa delle combo che Cheng e altri non fanno? Ho visto fare delle cose... Prima ha fatto delle cose agghiaccianti, un po' devastanti. Spalle è la morte. Bravo! Bella qui. Bravo! Sai che mi sa che gli può fare il blocco? Sì, penso anch'io. Ho visto qualche round, è pure un perfect al mio avvio. Perché mi sono sdraiato poco, in realtà ho visto che soffia molto la sdraiata. Ma soprattutto ho cominciato a variare, l'ultimo round ho fatto un po' di cose carine. E altri? E altri? E' un po' di cose. Ma questo non va abusare. Bravo! Sta mangiando? Sta mangiando? Sì, sta mangiando e non sta facendo la stessa cosa. Ma i panini sono già pronti? No, fra mezz'ora e te. Sì, non so chi altro ci sta. Ma a me piacerebbe. Tanto, oh, io duro poco eh. Ci mi dà 5 minuti? Sì, sì. Perdo 5 partite. Ma tanto, l'altra cosa è buona. Mi chiamo la tavola. Tanto devi ricordarti, cioè io devo ricordarmi che questo schifo in una maniera assurda. Mh, guarda che non tanto eh. No, no, ma mi ha andato di spalle troppe volte. Alla fine dell'ultimo partito... No, ma lui sta micro schifato. No, no, ma si è proprio camminato di brutto di spalle e mi ha fatto tutte le combo di spalle. E lì mi sono dovuto ricordarlo. Aspetta qua, mi tira questo eh. Poi dopo un po' mi sono adattato. Però... Poi me l'ha tirato a voto, non si è riuscito a furziarlo, non so. Bravo! Mh, ciao. Sì, ma qua. Imageno. Io il primo, questa mi sono preso? Un'altra parte. Ah, grazie. Imageno. Imageno! So's tib. So's tib. Oh, avveniamo, avveniamo tutto qua! Ah chi? Adesso lo's tib. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.